marocco non mi piace come ma prega io mi metto c'è voglio vincere quindi prova anzi metto che cazzo metto l'ajax ci siamo su e se ne possono prendere due perché stiamo su su scena confermata ok dove per sé la mitaglietta la saug bravo un matteo carta 0 2 col maddox ai simbato oplev di game di marco attenzione ce l'abbiamo solo noi viene killato subito dopo la mazza stiamo perdendo perché amiche è vero domerò da ci prende pestrina ma c'è chi nato granchio calabresa ok deve prendere pestrino però mi ha fatto il marker mi dispiace granchio continua così così ti voglio però perché sto facendo una martina di merda non li trovo proprio amici anche quel problema ovviamente dovevo finire il caricatore in quell'istante 44 sto facendo io è morto con la mina meshe quello no lo sapevo dovevo morire a 200 anni il caricatore mi sembra giusto ok ho liberato spawn non so dove spavano eh nascono dovrebbero nascere scale in teoria la tortoretta sta facendo pavilla c'è una tre davanti non so che devo fare c'è una tre davanti due dietro c'ho le storm elicottero ma che sto facendo che cosa stai facendo con lo scudo però mi serve l'appregionamento il caricatore salta mi ha fatto diventata forza per kill 26 4 sono infinites sordito c'ho la dark matter di colore di fuoco nooo c'avevo di fuoco la dark matter son morto oh voglio controllo la mantis via un po' vediamo se si mi ammazzano qualcosa del genere ma mi hanno ammazzato in tutto ciò ma ma sta nel glitch però sta nel glitch sta nel glitch sta nel glitch è invisibile sottoterra guarda sta dopo la mappa sta dopo la mappa di italiano di merda sta dopo la mappa sta dopo la mappa sta dopo la mappa granchio calabresa no lo carico sul canale prima fanno tutti simpatici e poi giocano nei glitch quanto sta e music glitch ma da affan capo granchio calabresa dai ma lo puoi gioca così che schifo santo dio dicevo io che ne vedevo uno in minimappa e non lo stavo capendo dove ma guarda che schifo eh cioè gio... ma non ha senso gioco così non ha senso il ciò mi piace il primo guardo 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 il primo tutto e due da sopra solo i due da sopra no questo però questo è veramente brutto che bastardi che cancro proprio poi dici poi dici no questa la carico questo è veramente brutto però no cioè giocare così però non ha senso perché le piastrine stanno pure fuori capito no ma sei 1989 ho fatto, basta prendere due pestine e abbiamo inizio, che schifo giocare così però no eh, giocare così sto veramente bastardo a giocare così eh ma veramente forte, che schifezza che schifo, li abbiamo aperti eh guarda guarda che schifezza mi segnala guarda qua guarda guarda qua, no vabbè no mi prendo pure due pugni guarda non è finita spero di più guarda 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 poi prendo due pugni dopo di questi, questi due li prendo appunto no, non l'ha fatto vedere comunque questa la carico per il video di domani cioè, devono smettere se il glitch non ha senso grazie a tutti come together